Questo programma è offerto da Tecnocampus Martedì 19 marzo, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi alla quotidiana Rassegna Stampa, come sempre offerta da Tecnocampus Anche questa mattina sono tanti i fatti che potremmo vedere sulle testate nazionali Tanti i fatti che partono in primo luogo con quanto avvenuto ieri in Olanda Ancora una volta si è sparato, ancora una volta tanti morti, ancora una volta la paura si è impossessata delle persone La ragione ancora non si sa, stanno ancora indagando le forze dell'ordine Ma cominciamo subito a vedere quelle che sono le notizie e come vengono trattate dai principali quotidiani nazionali Partiamo questa mattina con il fatto quotidiano E infatti vediamo che nella parte alta della pagina, tre morti a Ultrecht Olanda, un turco aggredisce una donna sul tram e uccide chi tenta di difenderla La domanda che si pone il fatto è questa Se siamo di fronte a un caso di terrorismo o all'ennesimo caso di femminicidio Anche questo ovviamente troverà la risposta nelle indagini che stanno compiendo le forze dell'ordine E ancora vediamo nella parte centrale della pagina ancora una notizia di cronaca esclusiva Parla Karima El Marog, Rubi, io e Man volevamo una vita diversa Dice e la testimone avvelenata, il PM greco smentisce l'ospedale avvertiti solo dopo la morte E conferma dosi abnormi di antimonio e cadmio nel sangue Altri verbali della ragazza su Arcore Insomma ancora tutta un giallo, una vicenda che si è tinta di giallo E che continua ancora a fare discutere soprattutto per la morte improvvisa della donna E le circostanze che l'hanno coinvolta appunto in questa morte Senza ancora conoscere gli fatti bene E per quanto riguarda le altre notizie in primo piano Ci spostiamo adesso su un'altra testata Andiamo a vedere libero come racconta i fatti in questa mattina Ed eccoci qua, torniamo sul nostro governo Movimento 5 Stelle vuole tasse più alte per dare soldi ai mantenuti Ci spreme, così spreca meglio La nuova flat tax leghista mette 17 miliardi nelle tasche di 18 milioni di contribuenti Ma i grillini la bocciano perché temono di perdere i fondi da destinare ai fannulloni Insomma così racconta questa notizia libero Ovviamente i fondi per i fannulloni sarebbero quelli del reddito di cittadinanza Che così vengono definiti proprio da libero E ancora vediamo anche qui nella prima pagina L'esistenza infelice della marocchina che vedeva Satana L'olgettina morta E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano Si torna sulla politica e vediamo quelli che vengono definiti politici illusi Non c'è un euro eppure fioccano le promesse E nella parte centrale della pagina Ecco l'uomo che ricorda, pensate un po' 67 date in 5 minuti E 2400 numeri in mezz'ora Neocampione italiano di memoria Insomma farebbe invidia a chiunque Soprattutto considerato che al giorno d'oggi Tendiamo sempre più a dimenticare le cose La memoria è diventata forse l'elemento della nostra esistenza Che utilizziamo di meno Anche perché siamo così imperniati su tutto ciò Che riguarda telefonini, social e quant'altro Che ci ricordano non solo le date dei compleanni Ci ricordano addirittura che cosa dobbiamo fare nel giro di 5 minuti Immaginate la nostra memoria come viene disfatta Da questa sorta di ricordo ambivalente Ma soprattutto agenda sempre costante Sulle nostre 24 ore che ci limita un po' in tutto Insomma esercitiamo di più la memoria E vediamo che come questo ragazzo Probabilmente la utilizza in maniera davvero eccezionale Forse noi almeno al 10% rispetto a lui Potremmo utilizzarla un po' in più Quindi oggi spostiamoci di ricordare qualcosa E di non lasciare tutto ai ricordi che ci vengono forniti dai social E ancora vediamo anche le ragazze alpine Nel loro piccolo fanno una grande carriera Capo della rivista delle penne nere Appunto c'è questa donna E ancora respinti sauditi Niente denari arabi per la scala E adesso la domanda è chi paga E nella parte bassa della pagina Abbiamo ucciso culturalmente i papà Ma oggi ci mancano padre nostro che sei andato fuori dai piedi Anche questo ovviamente corrisponde in parte al vero Visto che molto spesso la figura del padre Viene considerata quasi un di più Quasi come se avesse semplicemente contribuito a mettere al mondo un figlio Dopodiché il ruolo del padre viene quasi dimenticato Un po' per cultura Nel senso che è l'uomo che spesso si toglie da questa situazione Un po' perché le donne cercano sempre un po' di più di prevaricare questa funzione Ma ricordiamo che ovviamente tutto viene condiviso E soprattutto viene rappresentato in maniera estrema Visto che molto spesso oggi proprio gli uomini Cercano di essere sempre più presenti nella vita di quei figli Che un domani rappresenteranno appunto la loro discendenza Ma crediamo proprio questo Che i papà siano un elemento importante Anzi togliamo il forse L'elemento più importante nella vita di un bambino insieme alla mamma Perché condizionano, vedete proprio il caso di dirlo Tutta la loro esistenza Perché dalle basi che vengono date in famiglia Discende e dipende l'intera vita di una singola persona Molto spesso i danni che vengono compiuti dai genitori Sono irriparabili, irreparabili nel futuro Ma anche i pregi che vengono acquisiti Non si dimenticheranno mai nel tempo Anzi diventeranno proprio la base Da cui costruire una vita sincera, schietta E soprattutto piena di entusiasmo E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano Ci spostiamo adesso su Il Tempo E vediamo quali sono le notizie in primo piano Senza flat tax i grillini vanno a casa Fuoco di fila a 5 stelle Contro la battaglia lighista per ridurre le tasse Si fanno male da soli Di Maio e Soci hanno tirato troppo la corda con Salvini Se salta la riforma ancora una volta cade il governo E per l'ennesima volta Sembra che ci troviamo di fronte a questa situazione Che racconta di un governo sempre più diviso Sempre più in bilico su queste vicende In cui ancora non si trova un accordo Ma ogni volta si va avanti L'obiettivo si scoprirà nel tempo Ma questo sicuramente ancora non porterà a una rottura E continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano Vediamo nella parte centrale della pagina Quella che viene definita Ideona PD in galera Chi va a luccere Insomma senza colpire il mondo della prostituzione Come era stato proposto dal leghista Salvini Ossia la riapertura delle case chiuse Ma questa volta chi viene scoperto con una prostituta Aburtato E quindi di conseguenza secondo l'idea del PD Questo dovrebbe portare a una riduzione O comunque a un'attenzione maggiore E ancora vediamo Lite e pestaggio in fin di vita L'artista Ranieri Il pittore ha salito da una baby gang E nella parte bassa della pagina Eccoci qua E noi vogliamo firmarci gli accordi La Cina ci fa la guerra Persino con la frutta E nella parte bassa della pagina Ecco vediamo la parte sportiva Sberle giallorosse Pallotta monkey Lex DS Via per disaccordi con la società E Jim risponde Ma se faceva tutto lui E ancora continuiamo a sfogliare Le prime pagine di queste testate nazionali Ci spostiamo ora sul giornale E ci racconta la verità sulle tasse Un vero e proprio buco nell'acqua Salvini infatti insiste E i 5 Stelle si mettono ancora una volta di traverso Ma sanno che la flat tax non si farà Non ci sono né i soldi Né tantomeno l'accordo politico E intanto gli immigrati ONG salva barcone L'ira del Viminale Ancora scontro sul problema dei migranti E soprattutto E ancora scontro perché ancora una volta Ci troviamo di fronte a una sfida in piena regola In piena regola infatti A raccontarcelo è proprio Sallusti Che racconta di queste ONG Che comunque rendono quasi inutile Le parole del vicepremiere Ancora vediamo il caso Iman Quell'operazione mediatica per far fuori mezza Italia Ed ancora il pasticciaccio della Scala Specchio di un paese debole E nella parte centrale della pagina Ecco qua vediamo ancora una volta Il ritorno del terrore Nella parte sinistra Il combattente italiano ucciso dall'ISIS in Siria Lorenzo diceva Non sono un eroe Il soldato che comunque è stato ucciso Non ha voluto andare via Nonostante i genitori gli dicessero Lascia quella terra E nell'ultima lettera che ha lasciato Ha detto sono sicuro che Adesso che leggerete questa lettera Ovviamente sarò morto Perché altrimenti non l'avreste letta E sicuramente me ne sarò andato col sorriso Perché soddisfatto e assolutamente Non pentito di tutto ciò che ho fatto In più il suo corpo non verrà riportato in Italia Proprio perché la volontà di questo giovane italiano Era quello di rimanere proprio là Dove ha vissuto la sua vita E combattuto per un mondo che lui reputava più giusto E ancora dall'altra parte Sempre di questa parte del quotidiano giornale Folle islamico spara sul tram Tre morti e cinque feriti Questa volta in Olanda Catturato l'attentatore E ancora vediamo Il gius lavorista ucciso L'eredità di Biagi Vero antidoto a quello che viene definito grillismo E ancora vediamo nella parte bassa della pagina Le Madonnine dei Miracoli Dimenticati sette casi negli ultimi dieci anni Ecco che cosa è successo dopo Infatti negli ultimi dieci anni in Italia Almeno sette statuine della Madonna Hanno pianto lacrime Spesso rosso sangue Che hanno fatto gridare al miracolo Tutti episodi concentrati in un'area geografica precisa Ossia il sud Tuttavia questi eventi non sono mai usciti Dai restretti orizzonti delle piccole località In cui sono avvenuti Si crea curiosità Si formano code di devoti Ma anche di increduli E soprattutto di curiosi Perché è vero Che queste vicende Che queste madonnine che piangono Alla fine smuovono una quantità Non poco significativa di curiosi E ancora continuiamo a vedere le testate nazionali Ci spostiamo ora sul quotidiano La Repubblica E vediamo che in apertura di pagina Titola proprio così Aprite i porti Proprio in riferimento Alla vicenda dell'ONG italiana Che soccorre 49 migranti Tra loro 12 minori Rotta su Lampedusa Salvini intanto Bara una direttiva Antivolontari Insomma E scontro in piena regola Intanto vediamo nell'immagine Questi migranti salvati E la legge che viene definita Proprio la legge del mare Intanto nella parte bassa della pagina Eccoci qua Continuiamo ancora Sull'argomento Governo Un salario minimo Ai cittadini dell'Unione Europea E intanto Nella parte bassa della pagina L'ISIS uccide un italiano Lorenzo Orsetti Combatteva con i kurdi in Siria Lo Stato Islamico E eliminato un crociato E il padre Orgoglioso di lui Si è sacrificato Per quello in cui credeva Ecco gli altri al fronte Che vengono raccontati Appunto da queste pagine Non sono solo Italiani che vanno fuori Per turismo Ma ci sono veramente Squadre di italiani Che vanno per combattere Quella che loro definiscono Una guerra giusta Liberare dalla violenza Che viene invocata Sempre più spesso Dall'ISIS L'intera umanità E ancora vediamo Quali sono le altre notizie In primo piano Proprio in questa pagina Un condone edilizio Nello sblocca cantiere Nuovo scontro Lega Movimento 5 Stelle Ed infine nella parte bassa Della pagina In memoria di un'oggettina Vittima di serie B Così è stata definita Appunto questa ragazza Che è morta Ancora Per cause note Però con Movente O meglio Con situazioni Da scoprire E ancora vediamo Le altre notizie In primo piano Ci spostiamo Sul messaggero E anche qui In apertura C'è la politica Crescita e flat tax Nuovo scontro Conte frena Le misure urgenti Di Tria Per il rilancio Del PIL Scusate Mercoledì Solo lo sblocca Appalti Salvini Giù le tasse Per famiglie Sotto i 50.000 euro E Di Maio Rogela E il MEF Risponde Costa troppo Ancora Continuiamo a vedere Questa pagina Di oggi Accordo ad Atlanta Per quanto riguarda L'Alitalia Arriva infatti Il Sì di Delta Entra Pensate poco Con il 10% E intanto Il dossier 2018 La finanza Quoterosa Falsi invaliti E furbi Sprechi pubblici Per 6 miliardi E intanto Nella settimana decisiva Partita 2 Per decidere Chi comanda Staremo a vedere Se si arriverà A questo Oppure ancora no E intanto Nella parte centrale Imane il giallo Del cobalto Ionizzato E dall'università Il piano ricercatori Fuori Dopo 5 anni Il sottosegretario Fioramonti A 35 anni O sottiene la cattedra O a quel punto Si cambia lavoro Perché a quanto pare Secondo Questo sottosegretario Il lavoro Che fa per La persona Arrivata a 35 anni Si delinea Si configura In un'altra situazione Ed ancora Le scatole nere Boeing caduto Come quello Indonesiano Recuperate le scatole nere Adesso stanno Vagliando gli inquirenti Tutte le informazioni Per poter Comprendere Effettivamente Le ragioni Che hanno determinato La caduta Di questo aereo E quindi La morte Di tante persone Ed ancora Macron Sott'accusa Per le violenze Dei gileno Ai tepisti Ma se il movimento Prende il 10% Ci parleremo Ed infine Per quanto riguarda La Nuova Zelanda Minaccia killer Strage delle moschee Ora l'isis Promette Vendette Pensate un po' Proprio Nelle chiese Insomma Si cambia Religione Si cambia Situazione Si cambia Probabilmente Nazione Ma soprattutto Quello che non cambia È la violenza Vi lascio a qualche momento Di pubblicità Ma non andate via Ritorniamo subito dopo Sott'accusa Sott'accusa All'incrocio tra Caserta e il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto Di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti Dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione Al centro E' sempre martedì 19 marzo Siamo ancora su Teleprima Alla rassegna stampa Bentornati in studio Continuiamo a vedere Le prime pagine Dei quotidiani nazionali E questa volta Ci spostiamo Sul quotidiano Di Via Solferino Corriere della Sera E andiamo a vedere Quelli che sono I fatti di questa mattina Si parte dall'economia Un paese incerto non cresce Immaginate due linee Che si intersecano E poi procedono In direzioni opposte La prima sale L'altra scende Insomma Una rappresenta l'incertezza L'altra Lo stato di salute Dell'economia Entrambe le linee Riguardano l'Italia E più quella dell'incertezza Continua ad avanzare Verso l'alto Più l'altra linea Ossia quella che misura Il reddito degli italiani Scivola in basso Insomma Le due linee Si muovono in modo uguale E contrario Come una va su L'altra Allo stesso tempo va giù Insomma In breve E con una grafica immaginaria Vediamo L'economia rappresentata L'economia dell'Italia Rappresentata In una maniera chiara Ossia L'incertezza Da una parte E il reddito Dei cittadini Dall'altro E comunque Sono In una funzione Diretta Nel senso che Comunque All'aumentare dell'una Aumenta anche all'altra Man mano che aumenta L'incertezza E ovviamente In questo periodo L'incertezza E tantissimo Ma ormai Stiamo parlando Di incertezza Già da parecchio tempo Anche il resto Scende E ancora Vediamo quali sono Le altre notizie In primo piano Vediamo L'uccisione Dell'italiano Dall'Isis In Siria Il corpo In ostaggio Abbiamo eliminato Il crociato italiano L'Isis annuncia La morte di Lorenzo Orsetti Detto Orso Fiorentino Dei 33 anni Che combatteva A fianco dei kurdi Era Baguzza Ultima Roccaforte Giadista Nell'est Della Siria L'immagine di Orsetti Sono state postate Su Twitter E mostrano il viso E parte del busto Della vittima A terra Ma il corpo Del giovane italiano È tenuto in ostaggio Dall'Isis Forse come possibile Strumento di ricatto Il padre dice Distrutti dal dolore Ma assolutamente Orgogliosi di lui E ancora vediamo Ancora si parla Anche qui di violenza Dall'Olanda Sale Entrambe Fa una strage Giorno di terrore In Olanda Intanto nella parte centrale Della pagina Un condono Che agita il governo Torniamo in Italia Parliamo di politica Movimento 5 Stelle Accusa la Lega Norma sugli abusi Edilizi La replica Falso Migranti Salvini contro Le ONG Intanto L'intervista a Di Maio Noa Sanatori Assurdo Ostacolare L'intesa Con la Cina E sullo sblocca Cantieri Che deflagra Un nuovo scontro Nella maggioranza Con un giallo Sul mini condono edilizio Che 5 Stelle Contestano E i leghisti Negano di aver mai proposto Niente sanatorie Dice il vice premio Luigi Di Maio Assurdo Ostacolare L'intesa Con la Cina E intanto Per la politica estera Accordi e giri Di Valzio Ancora una volta E' polemica Che si è aperta Del governo Sull'accordo Italia-Cina Dimostra che il sovranismo E' una categoria politica Molto relativa Per quanto assoluta E inflessibile In realtà Voglia apparire Ed ancora vediamo Lo svarione di fisica Il ministero Il coraggio Di ammettere un errore Infatti non è facile Da avere il coraggio Di dire ho fatto un errore Il 28 febbraio scorso Il ministero Per l'istruzione L'università E la ricerca Ha infatti trasmesso Alle scuole Alcuni problemi D'esame Come simulazione In preparazione Al prossimo esame Di stato Il testo Il testo di uno Di questi problemi Conteneva uno Svarione di fisica Confondeva infatti Carica al secondo Con carica totale Come confondere Velocità Con distanza Avvisato Da un bravo insegnante Ho chiamato il ministero Per avvertire Dell'errore E questa è la realtà In cui ci troviamo Ossia Gli errori Sono plausibili E soprattutto Sono parte Della nostra esistenza Certo è che In determinate circostanze Come quella che sono Rappresentate dagli esami Di stato Forse un controllo Maggiore Andrebbe fatto Questo è L'elemento importante Certo è che Alziamo le mani Ovviamente Gli errori Sono ammissibili E soprattutto Il riconoscimento Degli stessi È l'elemento Fondamentale Che ci rende Persone vere E soprattutto Integerrime Sembrerà un'assurdità Però questa è la realtà Chi riesce a riconoscere I propri errori È in grado Anche di affrontare La vita In maniera diversa Chi sfugge A quelle che sono Le proprie colpe Invece purtroppo Pecca di presunzione E soprattutto Di poca umiltà E di incapacità A chiedere scusa E ancora Vediamo le altre notizie In primo piano Vediamo nel caffè Di Gramellini Greta Sgarbo Ce l'hanno tutti Con Greta E stiamo parlando Ancora della giovane Che ha smosso Le masse Di studenti E di giovani In vista Di quello Che è il mondo Più pulito E perché ce l'hanno Tutti con questa ragazza Vediamolo proprio qui La ragazza Scandinava Nel cui nome Venerdì scorso Milioni di ragazzi Hanno bigiato la scuola Greta che pretende Di farci mangiare A chilometro zero E poi compra le banane Greta manipolata Dalle lobby verdi Greta Greta Thunberg Non è il verbo Personalmente Non gli condivido La retorica di stampo Populista Che assolve La gente comune Per dare tutte le colpe Del cambiamento climatico All'elite In materia ambientale Quel poco che si è fatto Lo si deve A minoranze illuminate Però dietro La levata di scudi Contro la ragazzina svedese C'è qualcosa Che va oltre Il dibattito Sull'ecologia C'è la nuova Egemonia culturale Dei cattivisti Che provano Un fastidio Quasi fisico Per qualunque Manifestazione Del bene Insomma Questa è la realtà Che viene raccontata Proprio questa mattina Da Gramellini E che rappresenta Una situazione Che si verifica Troppo troppo spesso Quando una persona Riesce a smuovere Le coscienze Quando una persona Si muove In prima linea E soprattutto Riesce ad agire Facendo in modo Che qualcuno Possa decidere Con la propria testa Che cosa accade Arrivano Le dita puntate Della maggior parte Delle persone Che fanno vedere Innanzitutto Che questa ragazza È malata Quindi già la prima La prima pecca Quindi non si può Intervenire su di lei Perché poveretta Ecco Questo è già il primo Termine di paragone Sbagliato Secondo caso Ovviamente È una ragazzina Vuole salvare Il mondo Vuole dare un messaggio Probabilmente ancora Non agisce In maniera coordinata Per questo Sarebbe necessario L'aiuto Di tante persone adulte Che ovviamente Si dicono Più sapienti Però nello stesso tempo Si punta il dito Ma non si cerca Di correggere Questo è l'elemento Più grande Che comunque Ci reca la difficoltà Di riuscire A fare qualcosa Perché le masse Non si muovono Perché non c'è qualcuno Che ha il coraggio Di andare avanti Perché nel momento In cui qualcuno Si fa forte E si muove Verso una distanza Più lunga Qualcuno Punta il dito E questa persona Finisce al suono Ma continuiamo A vedere le testate nazionali E vediamo ancora Quali sono gli altri Fatti in primo piano E passiamo Su il mattino E vediamo Che anche qui Nella parte alta Della pagina Si parla di ONG italiana Sfida Salvini Il criminale Resta a largo La mare Ionio Salvati 50 migranti Davanti alla Libia E andiamo a Lampedusa Direttiva del ministero Traffico di clandestini Non entra nelle acque territoriali E ancora Vediamo Secondo le inchieste del mattino Governo litiga Tazze Cantieri E processi lenti Le leggi al palo Nuovo scontro Sullo sblocca opere Movimento 5 Stelle No al minicondono Della Lega Crescita slitta Ancora il pacchetto Tria E anche qui Lorenzo ucciso in Siria Dall'Isis Il testamento Dice non ho rimpianti E ancora Ci spostiamo Nella cronaca Di Napoli Una brutta cronaca Napoli Il pulma dei baby I calciatori preso a sassate La guata alla sanità Inseguiti da 20 motorini Avevano mazze e bottiglie Distrutti tutti i vetri E nella parte centrale Della pagina Ancora una volta cronaca Questa volta Torre del Greco Le accuse dei presidi Andare a scuola Assediati da montagne Di immondizie Infatti sono giorni Che ormai È alto l'allarme A Torre del Greco Per l'immondizia E questa volta Sono proprio i presidi A parlare Che dicono No basta Non è possibile Che i nostri studenti Continuino ad andare A scuola Con questa situazione Sempre più precaria E brutta E ancora Continuiamo a vedere Nella parte bassa Della pagina La proposta Di Nicchi Un reddito di cittadinanza Pesato un po' Per gli arbitri In pensione Secondo infatti Quest'uomo Vita dura Per gli arbitri Di calcio Il peso Dell'età Si fa sentire Molto presto Il limite massimo In Italia Per poter arbitrare Quello dei 45 anni Quando scatta Il pensionamento E non ci sono Possibilità di deroghe Marcello Nicchi Nella foto Il capo dell'AIA Dopo aver parlato Già nel comitato Di presidenza Della FIGC Ieri è tornato Alla carica Abbiamo professionisti Che per arbitrare In A e in B Lasciano il lavoro Quando finisce l'attività Si ritrovano Senza nulla Non escludiamo Di creare un fondo Di solidarietà Della durata Di almeno Uno Due anni Insomma Sintetizza Nicchi Stiamo pensando A una specie di reddito Di cittadinanza Arbitrale E anche questo Potrebbe essere Un modo Per dare Una soluzione Ancora continuiamo A vedere Le testate nazionali Ci spostiamo Su il manifesto Nella parte alta Anche qui si parla Di flat tax E di problemi Connessi al governo Intanto si dice Volano miliardi E già scontro Tensioni in un condono Galeotto Sullo sblocca Cantieri E nella parte centrale Della pagina Salvataggio Premeditato Si riaccende Infatti Lo scontro Sui porti I volontari Di Mediterranea Salvano 49 Migranti Su un gommone In avaria E si dirigono Verso Lampedusa Indicateci Uno scalo sicuro Dicono Ma il Viminale Minaccia Di chiudere Le acque Territoriali Con una direttiva Pensate un po' Anti ONG Lo scontro è acceso Lo scontro è aperto E si continua Ancora Per questa strada E ancora Dalla stampa Stesso argomento In apertura ONG italiana La salva 49 migranti Il Viminale Porti chiusi E al Capolinea La rendite di posizione Scusate Le rendite di posizione Questo viene raccontato Nell'editoriale Stiamo qui per risolvere I problemi Mancano 9,5 km Per concludere L'autostrada Assicuno Anche questa Una situazione Precaria Tante opere pubbliche Che non sono giunte A termine E che vengono Ora rappresentate In un quadro Sempre più irreale Ma quanto di più Reale c'è E ancora Nella parte bassa Della pagina Ucciso dall'ISIS Il fiorentino Volontario Contro la Jihad Caduto Inboscato Si era arruolato Con le forze kurde In Siria E ancora Hurret Fa fuoco Sul tram Tre vittive Non è esclusa La pista Terroristica Ma ancora Ripeto Questo è ancora Tutto da determinare Ancora ci spostiamo Sulla parte economica Dei quotidiani Nazionali Con le sole 24 ore Di B-Commerce 30.000 esuberi E un aiuto Dallo Stato E intanto Nella parte centrale Aeroporti Ecco il piano del governo Per il rilancio E sul fisco 16,2 miliardi Recuperati Nel 2018 E intanto L'olandese In sottotiro Della procura Di Milano E per la Cina L'Unione Europea Studia Fondo sovrano A difesa Dell'industria Tecnologica Ancora Vediamo L'analisi Che viene fatta Proprio sul fisco Un percorso Di trasparenza Ma l'evasione Ancora Non cede Ancora in primo piano E continuiamo ancora A vedere I quotidiani Economici Vediamo Italia Oggi Che apre Sulla sanità Tagliati I tempi D'attesa Se lo verranno Rispettati I tetti bassivi Fissati Il paziente Potrà ottenere La prestazione Come se fosse Solvente Ma pagando Soltanto Il ticket Del servizio Sanitario Nazionale E nella parte centrale Della pagina Da Trump Mille miliardi Per le armi Xi Jinping Nell'istanza Per la via Della seta Ancora Vediamo Il decretone Riscatto laurea Anche senza aver lavorato Prima del 1996 E sul marketing Nasce Scavolini France Obiettivo L'export Ancora Capitan Findus Ampia la gamma E investe Pensate un po' 8 milioni di euro E poi Ci spostiamo Sulla parte sportiva Andiamo a vedere Il Corriere dello sport Questa mattina Che cosa ci racconta E si parla di Cardi L'ostacolo E l'orgoglio Tre bomber sotto attacco Mauro manda segnali Ma il trionfo nel derby Ha complicato le cose L'incontro con Zhang Junior Il muro di Spalletti Il ruolo dei compagni Giovedì in Italia Il presidente cinese L'impatto sulla Serie A E su Milano Cortina 2026 Intanto Nella parte centrale Della pagina Ronaldo L'UEFA Indaga sul gestaccio Aperte infatti In inchiesta Per la risposta Al ciolo Dopo Juve Atletico Il verdetto Fra due giorni E Cristiano Vola a Madrid A inaugurare Intanto Una clinica Nella parte Bassa Della pagina Zeko Scaricato Dalla Roma Il bosniaco Via Giugno Everton E West Ham Si sono già fatti avanti Anche l'Inter In agguato Pallotta Contro Monchi Non ha funzionato E intanto Vediamo Nella parte bassa Ancora una notizia Di cronaca Anche da queste Pagine sportive Mentre i figli Gioca Nei genitori Si scontrano E' successo A Firenze All'Africo Il club Di Galli Giusto Fermarsi E ancora Continuiamo Sulla parte sportiva Vediamo Tutto sport Megliocardi Che mai Il titolo Nella parte alta Maurito Sui social Esulta Per il derby Ma nel suo futuro C'è Madrid L'Inter Punta su Zapata Come partner Di Lautaro E nella parte centrale Della pagina UEFA Lascia Stare CR7 E ancora Zaniolo Juve In prima fila Senza Champions League La Roma Perderà il suo gioiello Real Madrid Manchester City E Milan Alla finestra I bianconeri Però sono in vantaggio Lite a distanza Fra Pallotta E Monchi E con questa ultima notizia Terminiamo qui La prima parte Che riguarda le testate nazionali Ci fermiamo per qualche momento E ritorniamo subito dopo Grazie a tutti E attorno a tutti E attorno a tutti Che riguarda le testate nazionali Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.